ariete prosegue il periodo brillante che vi vuole euforici e briosi con una sete di novità che vi spinge a sperimentare strade diverse dal consueto venere nel segno riserva un posto speciale all'amore che adesso vive la pienezza dei sentimenti toro una maggiore mobilità rende il momento denso di novità interessanti la voglia di condivisione si fa sentire ed apre le porte alle amicizie agli incontri sono in arrivo notizie o siete voi stessi messaggeri di cose nuove che possono trasformare alcune situazioni gemelli qualche conferma un successo personale può rallegrare la vostra quotidianità le faccende di cuore sono favorite ed elargiscono buone occasioni qualunque sia la vostra condizione la tregua dalle problematiche del periodo avrà effetti benefici cancro ben supportati da giove e mercurio che offrono vivacità mentale comunicazione ed espansione personale avrete un buon percorso davanti a voi soprattutto in ambito sociale delle conoscenze e amicizie alcuni vantaggi potrebbero infatti derivare da persone che vi sono vicino leone anche se i pensieri seguono corsi un po' confusi e poco mirati non siete certamente carenti di una carica energetica e vitale di ottima qualità ben equilibrata nelle eventuali scelte tra nuovo e tradizione la sfera sentimentale vede un generoso consenso vergine una buona progettualità scandisce il tempo di questo momento avaro di grandi soddisfazioni ma comunque favorito nel suo programma operativo rivolto a traguardi del tutto nuovi la vostra abilità analitica sarà capace di centrare i problemi bilancia i due punti focali del periodo sono la vostra instabilità ed eccitabilità e le questioni amorose che subiscono una serie di contrasti dovete pazientare per trovare una sintonia sentimentale e affettiva con chi amate alcuni dissapori inquinano i rapporti scorpione il vostro cielo astrale consiglia cautela nelle discussioni e nelle trattative la verbosità animata potrebbe creare qualche guasto e non avete quella mente lucida che occorre per disarmare chi vi provoca cercate la quiete e rimandate decisioni importanti sagittario pur contenuti nella vostra espansività siete acuti e nervosamente carichi di energia canalizzate bene le vostre risorse senza disperderle in insofferenza o radicali tagli avete stelle luminose che favoriscono successi e conquiste personali nel lavoro e anche in amore capricorno capacità espressiva molto buona le angolazioni astrali appoggiano le iniziative legate alla curiosità alle forme di comunicazione agli incontri lasciate da parte la sensazione un po' ansiosa di instabilità e mancato controllo su tutto ampliate gli orizzonti mentali acquario il settore sentimentale riceve buoni influssi che esaltano i sensi e la passionalità siete molto vivaci e in forma fisica pronti alla ricerca della vostra metà se siete soli o a risaldare legami già in atto attenti alle parole però usate l'istinto al posto della dialettica pesci l'ambito professionale richiede qualche attenzione sono possibili contrarietà che lasciano un gusto amaro ma sarete in grado di arginare eventuali svantaggi tramite una buona luquacità che metterà l'accetto sulle questioni fondamentali buone stelle